Il segreto. Puntate dal 4 al 7 dicembre 2017. Anche Chris Loballi impazzisce. Anticipazioni settimanali. Cominciamo le anticipazioni settimanali ricordando che la puntata di venerdì non andrà in onda. Quindi ecco le trame che riguardano le puntate Il segreto in onda dal 4 al 7 dicembre 2017, le quali ci rivelano qualcosa di inaspettato per l'epoca in cui è ambientata la sopa e inoltre vedrete che Mattias andrà a parlare con il padre di Marcella, il mugnaio opaco, per chiedergli la mano di sua figlia. L'incontro, purtroppo, non andrà nel migliore dei modi. Raimundo continua a mostrarsi aggressivo con tutti, mentre Camila, esclusa dagli affari di famiglia, litiga furiosamente con Ernando. Beatriz chiede a spiegazioni a Mattia sul suo strano comportamento, ma il giovane fugge precipitosamente senza rispondere. L'usia prosegue nel suo piano per distruggere il matrimonio dell'amica, e spinge Camila e Beatriz a partire per la capitale. Intanto, a Cristobal accadono strani fenomeni che gli faranno credere di essere sull'orlo della follia. Una Bibbia antica prenderà fuoco tra le sue mani, ed una oscura presenza avanzerà verso di lui. La notizia della gravidanza è piombata come un fulmine a ciel sereno sul giovane Castaneda, e nonostante la figlia del mugnaio voglia crescere il suo bambino da sola Mattia si dichiara pronta ad assumersi le sue responsabilità. Ma Marcella non accetta e preferisce partire per l'Argentina dove dei parenti che la aiuteranno a trovare lavoro e crescere suo figlio. Intanto, Cristobal, accompagnato da Onesimo, fa visita a Raimundo. L'antica Bibbia, ricevuta da un anonimo mittente, prende fuoco mentre Cristobal legge un passo dell'Apocalisse. Quindi, accadrà un fatto molto inquietante. L'uomo vede una strana figura che lo spiega e, impaurito, urla. Onesimo accorre allegrida di Cristobal, quando viene messo al corrente di quanto è successo, pensa che egli abbia inventato tutto o si è impazzito. Ed a proposito di perdere la ragione, lo stato di salute di Raimundo non migliore è sempre in un grave stato confusionale e le sue violente imprecazioni contro chiunque gli si avvicini iniziano a esasperare Francisca. Camila e Hernando litigano e Lucia si intromette, mentre Camila chiede al dottore di tornare ad occuparsi della gestione della casa e della famiglia. Quando Hernando rincasa e scopre che sua moglie è uscita senza il suo consenso si arrabbia molto, ma lei gli risponde a tono. Intanto, Raimundo è scorbutico e continua a trattare Malef e Francisca. Nel frattempo Beatrizzi incontra Mattias e gli chiede spiegazioni ma il ragazzo scappa via pur di non raccontarle la verità. Lucia continua a seminare zizzagna tra Hernando e Camila e spinge Camila e Beatrizzi a partire per Madrid. Intanto Raimundo, sempre più collerico, viene sedato, mentre Cristobal è spaventato dai rumori e dagli oggetti che si muovono in casa. Nel frattempo, Mattias chiede la mano di Marcela. Le anticipazioni terminano qui. A presto con le prossime trame della telenovila spagnola.